Mattinata di tensione costaggia Padova per la fuga di un detenuto evaso alla sorveglianza della polizia penitenziaria mentre si trovava ricoverato all'ospedale. L'uomo, un leccese che deve scontare una pena fino al 2023 per diversi reati commessi, tra i quali delle rapine, è fuggito verso le ore 9 del mattino, calandosi da una finestra del secondo piano. Immediatamente gli agenti si sono resi conto dell'accaduto, hanno dato l'allarme e iniziato l'inseguimento, riuscendo a fermarlo all'interno di una palestra in via Nazareth attorno alle ore 9.45. Al momento all'interno della palestra c'erano solo un istruttore e il presidente dell'associazione che gestisce il centro sportivo, il quale, scosso per l'accaduto, accetta di raccontare quanto successo solo a microfoni spenti. Si sa così che il detenuto, che indossava una tuta e delle sneakers, si è presentato alla porta suonando il campanello. Pensando fosse un cliente in cerca di informazioni, gli è stato aperto. A quel punto il fuggitivo si è diretto verso la sala Pesi, intenzionato di uscire da una seconda porta a vetri, ma fuori c'era già un poliziotto, mentre altri due agenti che lo inseguivano sono entrati anch'essi nella palestra, lo hanno bloccato e l'hanno potuto portare via.